Napoli da record, l'incasso con l'In Champions porterà 6 milioni. Napoli bisognerà farselo bastare questo stadio con i suoi 54,726 posti, lo riempiranno. Hanno già cominciato a farlo gli abbonati con il diritto di prelazione, aperta da ieri e fino a domani alle 12. Al resto penserà la folla che sta in attesa dinnanzi a un computer, perché dal momento in cui partirà la prevendita libera. Sarà una corsa al Maus. Ci vorrebbero due Maradona, a naso, per l'enormità delle richieste. Per oggi a questo l'unico sarà sufficiente a trasformare la partita, Napoli-Milan ritorno dei quarti di Champions League del 18 aprile. Nella madre delle sfide di tutti i tempi, incasso che viaggerà ben oltre i 5 milioni di euro e si avvicinerà ai 6. Con prezzi che si possono dedurre, essendo stato concesso agli abbonati uno sconto del 20%, tribuna Pusillipo. 272 euro, tribuna Nisida. 176 euro, distinti. 104 euro e curve 72 euro, sulla tariffa piena. Il paragone con il passato stracciato ogni paragone con il passato, il primato degli incassi spetterà dunque e ovviamente a Napoli-Milan. Come nei fantastici anni 80, quando però il San Paolo era in grado di soddisfare una richiesta largamente maggiore. Virgola.